Mi chiamo Peng Miao, ho 23 anni, sono soprano. Vengo dalla città di Yuen Yang. Vorrei sostenere l'esame di ammissione al secondo livello di canto al Conservatorio Rossini di Pesaro. Oggi canterò a Nocretea Virati dall'opera La Sondangola di Bellini e Sombra Polè dall'opera Quillen Tell di Rossini e musica sacra Via Lisbeth di Bach. La Sondangola di Pesaro 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 E' un gioco solo, la sole dora. E' un gioco solo, la sole dora. E' un gioco, la sole dora. E' un gioco solo, 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 la sole dora. Buon appetito! che crede nei connettri, nonché ne potrebbe essere. E la sua parola è ripetissima. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.